e ciao a tutti ragazzi benvenuti a questo nuovo video di minecraft finalmente siamo tornati anche noi qui un attimo solo che controllo se sta registrando ebbene si sta registrando meno male era da un bordello di tempo che non facevo video su minecraft mi sono praticamente dimenticato tutto però tempo fa io mi ricordo che andai avanti con la nostra sky house e infatti come vedete ho fatto un po' ingrandire diciamo la farma di mooc qui ci sta un pulcino una gaddina piccola piccola e poi se riusciamo a trovarla dovrebbe esserci il mouse che va per cazzi dei suoi dovrebbe esserci il mouse che va per cazzi dei suoi la lagata fuda dovremmo trovare una gallina si ma perchè va così non lo so dovrebbe esserci una gallina che va girando qui in solitario perchè è riuscita a scappare e non riesco a metterla dentro quindi noi ora iniziamo a rompere un po' le palle no scherzo allora ragazzi come va è da un po' che non faccio video su minecraft per mancanza di tempo mancanza di un bordello di cose proprio e però oddio devo fare uno starnuto ok starnuto effettuato stavo dicendo ed è un casino che non faccio video su minecraft però comunque tempo fa mi portai avanti e infatti quindi come vedete qui ci sta non so se questa già ve l'avevo fatta vedere non mi ricordo ci sarà la nostra farm di meloni e zucche qui ho anche fatto la farm di di sugar can esattamente poi vabbè qui il grano come ben sapete tutti madonna questo ghiaccio il ghiaccio il ghiaccio il ghiaccio il ghiaccio il ghiaccio gli achievement che bisogna fare e noi diciamo che stiamo a buon... cioè no abbiamo finito la farm di grano poi abbiamo finito questa qui di zucca questa qui mi pare che non la chiedeva però noi l'abbiamo fatta comunque e quindi allora la prima farm l'abbiamo finita quella di alberi anche perchè guardate... ah qui non l'ho messo aspetta one minute perchè... mmm... cioè anche la farm di alberi abbiamo fatto perchè abbiamo due, quattro, sei e otto e penso che vadano bene così ora ci... abbiamo fatto anche il generatore di cobblestone guardate sono... sono paraplegico non riesco a giocare abbiamo fatto anche il generatore di cobblestone che sta lì ora dobbiamo solamente finire la farm di tutti gli animali però ora diciamo che più su... che la farm... cioè più sulla... su... oddio santissimo cioè prima mattina sono le otto e mezza mi sono appena svegliato quindi fate un po' i calcoli diciamo che... allora gli achievement che ci restano da fare sono costruire la seconda casa che ho pensato di farla su un albero che sarebbe... come vedete ho messo questo albero qui alla fine e poi cercare di far... di farlo crescere... cioè di far crescere un albero gigante e facendo crescere questo albero gigante la facciamo sopra quest'albero gigante appunto come per inciso e... poi dobbiamo fare anche un... generatore... eh ho il generatore di tesorella dobbiamo fare un... una mob di mostri e... anche... un laghetto dove pescare e dopo di che penso che abbiamo finito con gli achievement poi ci sono quelli lì extra che sarebbero raccogli... allora che cazzo era? allora... raccogli 20 pesci... no raccogli... oddio come cazzo era? aspetta che controllo allora... extra... allora raccogli 20 pesci... raccogli 200 di grano... e prendi 64 di maiale cotto ah... diamo un'ottima occhiata a... ah poi dobbiamo costruire anche due funghi giganti e poi quello non è un problema e... sì perché poi l'acqua infinita già l'abbiamo fatta gli alberi, le zucche, la fattoria... ok sì più o meno sono tutti quanti facili quindi una volta finito... guarda come crescono a mo' di... mamma mia mamma mia ehm... appena... appena finiamo tutti quanti gli achievement penso che farò un video dove dirò oh pezzi di merda scrivetemi voi che... che cazzo ho fatto eh... scrivetemi voi quali... quali obiettivi devo fare perché qui non c'è... non so cosa fare ecco appunto appunto... allora visto che qua sta diventando troppo grande io direi di fare una bellissima cosa cosa una bellissima facciamo accoppiare queste bestie allora bestie? bestie? e guarda però si buggano guardali come si buggano che non mi cagano proprio oi oi stronzi ecco qua ora si allora fermi non mi venite vicino uno e due accoppiatevi poi uno e due si accoppiano farli accoppiare ok e ora manca solamente quello là che è rimasto da solo come un cane allora sono uno, due, tre, quattro quindi se ne uccido due sono uno, due, tre, quattro, cinque, sei ok quindi uccidiamone due ok ci ha dato nulla praticamente qui questa gallina è cresciuta non è più un pulcino si però non posso giocare così quindi devo chiudere sto cosa di merda quindi arresta dai cazzo ah non riesco a giocare se è piazzato giusto davanti sto cosa ok no aspetta perché è un cosa che non so si chiudi il programma oh vittì ok ora dovrebbe funzionare oh mo si che funziona perché in sostanza stavo a fa qui abbiamo pig e ship in sostanza da cosa stavo a fa non lo so maronna ma che devo fa mo nulla aspetta possiamo questa carne si era uscito il malware cioè lo scanner e quindi guarda gli alberi poi qua devo mettere delle zucche in modo tale da sto coso corri da solo vabbè non penso che comunque riuscirò cioè non lo so cioè non so cosa voglio dire basta prima mattina sono stanco dormito poco solo 12 ore oddio dove sei così dio 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 padre nostro allora comunque io ho tantissimo legno quindi ora distruggo questi qua e mando affanculo tutto perché non voglio raccogliere più mi sono stancato cos'è quello ah si è legno è legno è legno è wooden planks it's a wooden planks wooden planks wooden planks cioè abbiamo talmente tanti di quei sebring che vaffanculo troia allora su dunque su dunque questo qui lo si posa questo anche lo si posa oppure potremo anche oh finalmente questo è cresciuto un po' Grazie a tutti.